Eccoci bentrovati, questa sera parliamo di cucina, siamo a Lido di Jesolo presso il ristorante Vesuvio con il titolare Cristiano Scantamburro. Perfetto Cristiano, allora questo ristorante ha un nome particolare direi il partinoteo, da cosa è dovuto il nome? Beh, questa è la seconda pizzeria praticamente costruita a Jesolo alla fine degli anni 50 e le prime pizzerie proprio per ricordare l'origine della pizza hanno avuto nomi che si accostavano a Napoli, al Vesuvio, a Sorrento e quindi a tutto ciò che potesse ricordare la pizza. Perfetto, questo è un ristorante molto gettonato, avete tantissimi clienti, c'è sempre una gara da caparare su un posto, qual è il segreto del vostro successo? Beh, sempre cerchiamo di mettere le cose di più alta qualità, possibilmente legate ai nostri prezzi che sono competitivi, comunque cercando sempre di accostare la qualità, cuochi italiani, cucina italiana e cerchiamo di dare quello che si può mangiare in Italia anche se siamo a Venezia, quindi dei piatti anche del centro e del sud Italia o di altre regioni tipo il pesto alla genovese o le lasagne alla bolognese che sono da altre regioni che comunque cerchiamo di far mangiare i nostri clienti qua. Qual è il piatto più gettonato? Beh, sicuramente lo spaghetti allo scoglio, la gente viene al mare e vuole mangiare i pesci, è il nostro marchio di fabbrica, la gente vuole mangiare i pesci, nello spaghetti allo scoglio c'è un po' di tutto, quindi le cozze, le vongole, gli scampi, i gamberi, i canestrelli, quindi già è un piatto completo dove mangia, oltre che la pasta, anche tutto quello che ci gira intorno. Perfetto, siamo nel centro di Iesolo praticamente, di Lido di Iesolo, qui è la via dello shopping praticamente, per cui siete in una posizione privilegiata, però siete anche vicini a Venezia, quanto è importante nella realtà di Venezia per voi? Sì, è importantissima Venezia, specialmente nei periodi di bassa stagione, le persone non vengono qua per la spiaggia perché magari ci sono 15-20 gradi ma vengono principalmente per andare a Venezia, comunque anche le persone che vengono durante l'estate, se fanno qua una settimana, dedicano in ogni caso, proprio per la vicinanza a Venezia, dedicano un giorno alla visita a questa grande città. Perfetto, vogliamo dare i dati per potervi contattare qui al ristorante e eventualmente prenotare? Beh, noi abbiamo, non abbiamo un sito, però abbiamo un Facebook dove potete vedere i nostri contatti, comunque vi lascio il nostro numero di telefono che è 0421 91978 e invece la nostra mail è pizzeria-vesuvio-tiscali.it, potete contattarci in qualsiasi momento e saremo a vostra disposizione. Perfetto, ringraziamo allora il signor Stantamburlo per questa intervista che ci ha dedicato a voi tutti. Grazie, buonasera.